Siamo tornati su Borderlands 3 per vedere un assalto un po' particolare Sta parlando del Clarvoyance, un assalto Jacobs molto unico Perché ha un po' di Torgh in sé, diciamo Quello che fa è, quando andrete a fare un colpo critico Andrà a appiccicare al bersaglio una bomba Diciamo una piccola sticky, una mina Quando questa mina esplode dopo poco, letteralmente un secondino o due Andrà a far danno, appunto, normale Però non danno splash, strano Però, vabbè, alla fine non è un'armatoria E andrà a sparare un proiettile a un nemico vicino Quindi avrà il solito rimbalzo, stile Jacobs Ma con un danno aggiuntivo, che è quello dell'esplosione Che, ripeto, non fa danno splash Quindi non viene potenziato dal danno splash È un'arma utile? Relativamente Vedete che comunque riesco a eliminarmi anche i consacrati senza problemi con Avatar Amara Che, come sapete, non è una build che si basa sul critico Per cui direi che è un'arma più che decente La potrete ottenere da Critchi nel DLC2 a Curse Haven Indicato qui sulla mappa Con un segnalino bianco Sicuramente ci sono armi migliori E quindi vi consiglio utilizzare quelle Ma questa è comunque divertente Se avete una buona mira Grazie a tutti